Un itinerario tra miti, visioni, leggende, incubi e speranze in cui si cancella il confine tra chi sogna e chi è sognato tra autori e personaggi, spettatori e attori. È un Iricon, il nuovo spettacolo del Teatro della Tosse che torna, come spesso fatto in passato, in questo caso nel parco storico Villa Duchessa di Galliera di Voltri, ad un teatro che celebra la propria festa scommettendo sulla vicinanza l'incontro e lo scambio diretto tra chi agisce e chi guarda. E lo spazio che lo ospita è quanto di più appropriato si possa immaginare per una pièce ispirata, come sottolinea il titolo, al mondo del sogno, un mondo che il teatro lo ricorda molto da vicino, con la sua dimensione inafferrabile, immensa, misteriosa e antica, perfetta per i scenari naturali del parco e i suoi percorsi magici alla scoperta di angoli sempre nuovi. Omero, Virgilio, Shakespeare, Shelley, Borges, moltissimi sono stati gli autori qui utilizzati che si sono avventurati nella direzione dell'onirico come in un mondo altro, diverso, fuori dalle nostre percezioni sensoriali, dove l'anima si libera dal corpo e tutto è possibile, salvifico e terribile, spesso inspiegabile. E proprio come nell'animo umano in sogno si creano infiniti mondi, nel bosco prende vita un'epifania di scene, personaggi e luoghi in cui realtà e immaginazione e passate presenti si scambiano il passo, creando ogni volta una storia nuova. Lo spettacolo resterà in scena fino al 28 luglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.